A chi dà valore a ogni chilometro percorso curva dopo curva, a chi dà valore alla sicurezza e protezione di chi ama, a chi dà valore a ogni esperienza, a te dedichiamo Vantaggio Subaru+. Scoprilo su Subaru.it Subaru Ciao a tutti vedo Rosi, l'appuntamento della nostra vetrina oggi è con Auto Torino, in particolare con la concessionaria Subaru nella sede di Curno dove troverete Gabriele. Ciao Gabriele! Ciao a tutti, ciao Rogi, filiale di Curno via Bergamo numero 66, nella via importante commerciale, sua strada principale proprio che collega Curno. Beh, che dire, ricordo sempre che Auto Torino insieme a Subaru fin dal 1991, legata per una passione per i motori, ha fatto sì che ha dato affidabilità e grande sicurezza alla mobilità. E poi abbiamo anche i nostri centri service dove hanno un punto di riferimento per i nostri clienti che hanno comprato da noi le Subaru. Perfetto, noi invitiamo tutti naturalmente a venire qui a parlarne con te e con i tuoi colleghi per avere l'opportunità di provare che cosa vuol dire affidabilità e sicurezza e quando parliamo di Subaru sicuramente sono dei punti importantissimi. Anzi, posso chiederti una cosa? Certo! Andiamo a provarla questa Forester? Assolutamente! Dai, allora andiamo! Non vedo l'ora! Bene Gabriele, siamo a bordo di questa splendida Subaru Forester, raccontamela un po'. Beh, Subaru Forester, in questo particolare parliamo della versione style, molto ricca di accessori, poi come tutte le Subaru hanno tutte di serie sistemi di sicurezza molto affidabili, come l'Aissai, sistema assistenza alla frenata ma soprattutto l'anticollisione, cioè impedisce un incidente, un eventuale incidente che può capitare. Questo in particolare poi è anche ricca di applicazioni, per esempio il famoso CarPlay, MirrorLink, Android Auto, sistemi comunque all'avanguardia dove sono anche interattivi e legati al nostro telefono personale. In particolare poi anche questa versione ha anche sullo specchietto destro la telecamera che aiuta alla manovra, cioè i famosi anglocecchi durante proprio un parcheggio, oppure come in questo caso un tornante. Poi Subaru, grazie al motore e-boxer con un baricentro basso, fa sì che ha un servo sterzo, uno sterzo molto preciso e anche molto affidabile. Poi ovviamente volante multifunzione con palette sequenziale per il cambio, sensore automatico luci, pioggia, cruise control attivo adattivo, fari anteriori full LED, fanali posteriori full LED, telecamera posteriore. Tutte le Subaru e Forester hanno il sistema apertura portalone posteriore con le Z-Pack, cioè elettrico. Insomma una vettura davvero molto molto ricca come avete sentito di accessori e naturalmente è un po' tutta la gamma Subaru, è una gamma che è completa soprattutto per quanto riguarda i sistemi di sicurezza e anche affidabilità anche per il 4x4 che insomma è presente su tutta la gamma, per cui mi sembra molto interessante. Esatto. L'invito Gabriele, io direi che è senz'altro quello di venire a provare una di queste vetture per avere l'opportunità, ecco visto che qui ci troviamo a Curno, quindi in provincia di Bergamo e avete visto che luoghi potete trovare perché noi siamo usciti da 10 minuti neanche dalla concessionaria, per cui approfittatene, venite magari a fare una gita con la vostra famiglia, venite a visitare questi luoghi bellissimi e approfittatene per fare una prova su strada di una vettura Subaru e sicuramente rimarrete sorpresi e soddisfatti. Gabriele, grazie per questa splendida prova, vuoi aggiungere qualcosa? Certo, volevo aggiungere i vantaggi fino a 6.000 euro entro fine mese su tutta la gamma Subaru. Volevo anche ricordare che Autotorino è il primo dealer che ha introdotto la formula soddisfatto e rimborsato dal 2017 sulla gamma nuova, aziendale, usato e chilometro zero. Abbiamo anche l'opportunità, le offerte a 360 gradi delle nostre formule finanziarie, oggi anche con app da voi Autotorino, cioè un sistema di videochiamata geocalizzata presente 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche per in caso di urgenza, nel caso anche medica. Certo, Autotorino con voi, ecco ripetiamo il nome, per cui Autotorino è sempre da voi anche grazie a questa app che vi permette appunto di avere tutti questi vantaggi, per cui andate a scaricarla, sicuramente è molto utile. Soddisfatti e rimborsati, io tornerei solo per un attimo, vuol dire veramente questo, e se voi non siete soddisfatti del prodotto, in caso di Subaru penso che sia impossibile, potete restituire la vettura entro i 15 giorni o 1.500 km, capito bene? Esatto, è proprio così, proprio così. Quindi una garanzia in più per voi. A questo punto Gabriele, grazie mille e invitiamo tutti voi a fare quello che abbiamo fatto noi, la prova su strada per capire che cosa vi offre davvero una Subaru, naturalmente qui a Curno. Ciao Gabriele, alla prossima! A voi, vi aspetto a tutti! A voi, vi aspetto a tutti! A chi dà valore a ogni chilometro percorso curva dopo curva, a chi dà valore alla sicurezza e protezione di chi ama, a chi dà valore a ogni esperienza, a te dedichiamo Vantaggio Subaru+. Scoprilo su Subaru.it Subaru F